In questa puntata, aggressione licei fiorentini, edilizia super bonus, Cure to Children Aggressione ai licei fiorentini, ferma, condanna agli atti di violenza. Il Consiglio regionale ha approvato la mozione del Partito Democratico che esprime solidarietà agli studenti vittime di episodi di squadrismo e vicinanza al corpo scolastico. Una posizione molto dura, forse la più dura del Consiglio regionale. Chiediamo al Consiglio regionale della Toscana e quindi alla regione di Toscana di prendere un impegno di costituirsi parte civile qualora venga istituito un procedimento penale. Ovviamente siamo convinti che questo avverrà. Nel contempo esprimiamo massima solidarietà anche agli insegnanti, intervenuto, al corpo docente. Una condanna forte e durissima nei confronti di coloro che utilizzano la violenza per imporre un'idea. Sembra rimettere le lancette indietro a una stagione che ovviamente ognuno di noi vorrebbe dimenticare. Serve usare il cervello e l'intelligenza per portare avanti le proprie idee e sicuramente non cazzotti pugni o violenza. Condanniamo sicuramente degli episodi di tale gravità e esortiamo tutte le forze politiche che hanno matrici particolari a fare attenzione a quelli che sono i contenuti dei propri gruppi giovanili perché siamo venuti a conoscenza che c'è stata anche una distribuzione di manifesti all'ingresso di queste scuole e che questo episodio non è l'unico perché era già avvenuto in un'altra scuola. E faccio riferimento anche a un episodio che è avvenuto nel Lazio dove una ragazza che era andata a rimuovere un manifesto con sopra delle svastiche, quindi dei simboli nazisti, è stata addirittura picchiata in strada. Ecco, arrivare diciamo da episodi già molto gravi a episodi estremi è un passaggio che può essere molto veloce e sul quale le istituzioni, in primis quelle scolastiche, devono fare la loro parte ma sicuramente le forze politiche e lo sappiamo non la loro responsabilità. Ma intanto vogliamo porre all'attenzione la nostra preoccupazione e speriamo sia la preoccupazione di tutto il Consiglio rispetto ad atti di grande gravità che presuppongono intolleranza e che presuppongono una violenza, una istigazione all'odio in un luogo come quello della scuola dove invece dovrebbe essere esercitata la possibilità per tutti di potersi esprimere. Questa aggressione ha tutte le caratteristiche di un'aggressione squadristica, di stampo neofascista quindi noi chiediamo che ci sia la condanna da parte di tutti rispetto a questo episodio, ripeto, molto grave. Ma questo ovviamente non basta. Invitiamo la regione tutta a proseguire in quella che è un'attività di carattere culturale verso il superamento dell'intolleranza, del razzismo, dell'odio. La Toscana è una regione che ha nel suo DNA l'antifascismo quindi credo che a maggior ragione ci debba essere, se possibile, un rafforzamento dell'attività di carattere proprio culturale. Sono gravissimi, sembra di ricreare quel clima che accanto a un governo di destra si accompagna naturalmente da un lato il volto più che presentabile e al di là delle opinioni totalmente diverse, ma insomma delle figure di governo ma dietro ti rendi conto che sul piano territoriale agiscono nuclei, in questo caso di studenti che fanno della violenza la loro ragione d'essere e questo deve essere assolutamente una strada da bloccare e l'individuazione dei responsabili perché possano in modo esemplare essere messi in condizione di non nuoscere deve essere il nostro imperativo morale. Lo abbiamo detto in tutte le sedi e continuiamo a ribadirlo, è una ferma condanna per gli atti avvenuti davanti al liceo Michelangelo però credo che il dovere delle istituzioni sia anche quello di non alimentare questo brutto clima che si sta creando purtroppo in questi giorni, dopo quel fatto, dopo anche il corteo avvenuto ieri dobbiamo avere un senso di responsabilità, un senso di evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione è un fatto grave, dobbiamo soltanto impegnarci affinché fatti come questi non avvengono più in Toscana e non solo in Toscana facendo sentire sicuri i nostri cittadini, i nostri studenti all'interno e fuori dalle scuole quindi quello che noi crediamo e continueremo a credere, qualsiasi condanna, ferma, di violenza che venga da destra, che venga da sinistra, però no a strumentalizzazioni aspettiamo la fine delle indagini e poi presenteremo un atto per chiedere che ci sia più tutela nelle scuole e che si faccia un lavoro in sinergia come forze politiche tutte affinché non si ripeta mai niente del genere La violenza si condanna sempre, senza se e senza madda, a qualsiasi parte arrivi noi speravamo di trovare nel Partito Democratico la disponibilità a votare un atto di questo tipo in realtà è arrivato un atto in cui addirittura laddove la magistratura, le forze dell'ordine non hanno ancora chiaro cosa sia successo, laddove ogni giorno sui giornali si reggono testimonianze e controtestimonianze, ieri ho letto un professore che diceva una versione completamente differente da quella che era passata nei giorni precedenti, dove non c'è ancora una certezza di cosa sia accaduto si è voluto già dare una matrice politica a tutto e soprattutto l'atto era finalizzato a far cosa a chiamare in causa il Governo nazionale, la polemica con Giorgia Meloni eccetera quindi non c'era la volontà di fare una condanna unanime, dispiace c'era comunque nell'atto, riconosco nell'atto del Partito di Maggioranza oltre alle varie strumentalizzazioni, alle varie polemiche c'era comunque la frase di condanna della violenza e per questo non ce la siamo sentiti di votare contrari però non era l'atto che aveva chiesto il Presidente Mazzeo Edilizia, rivedere lo stop alla cessione dei crediti di imposta sugli incentivi fiscali Noi ci siamo messi in ascolto dei territori, delle imprese ma come voi sapete molto bene anche di tantissime famiglie che dopo i provvedimenti assunti dal Governo sono rimaste assolutamente sconcertate e c'è una crescente paura e un timore che questi provvedimenti possano davvero provocare guai ancora più grossi e rilevanti Da qui la decisione di presentare una mozione con la quale noi chiediamo alla Giunta di interloquire con il Governo sia perché sia valutata la possibilità anche di tornare indietro rispetto a alcuni provvedimenti e poi si discuta nella conferenza Stato-Regione o nella conferenza unificata affinché si possa valutare anche la possibilità da parte delle Regioni e degli enti locali di procedere anche per quella strada che era stata individuata da altre Regioni e da altri enti locali e che il provvedimento del Governo con una decisione che ha lasciato sorpresi davvero tutti perché si parla molto di autonomia ma questo provvedimento invece ha bloccato, ha zerato anche l'attività e soprattutto l'autonoma deliberazione di questi enti e questa mozione serve per anche portare questo tema all'interno del Consiglio regionale e c'è stata una bella discussione e siamo contenti dell'approvazione Io ho sottolineato in Consiglio regionale che questa era una misura presa dal Governo di Giuseppe Conte alla fine della pandemia, in un periodo in cui il Paese era preoccupato e spaventato di fronte anche alle incertezze del futuro è stato un modo per sbloccare l'economia, i vantaggi e i numeri, lo dicono chiaramente, ci sono stati a differenza di condoni che invece si vede approvare senza nessuna ragione dal Governo attuale quindi veramente questo comportamento di decidere dalla sera alla mattina di cancellare un provvedimento che ha portato un incremento notevole in posti di lavoro e in PIL ci è sembrata una cosa completamente fuori luogo e poi mi domando anche come il Ministro Giorgetti e tutto il centrodestra si accorgano adesso della insostenibilità di questa misura quando erano anche loro nel Governo Draghi che ha continuato ad alimentare questo provvedimento del Superbonus Ma perché si continua a far finta di non capire che l'operazione del Superbonus ha generato circa 105 miliardi di crediti fiscali di cui 77 non hanno ad oggi copertura da parte dello Stato perché il meccanismo di cessione infinita di questi crediti ha creato uno scompenso rischia di creare uno scompenso nei conti pubblici che non può essere per esempio sanato dall'acquisto degli enti locali e delle regioni come era stato nelle settimane scorse paventato perché questo rischierebbe di pesare sul debito pubblico italiano non essendo cioè una forma di finanziamento immediatamente liquidabile gli organismi di controllo europeo avrebbero potuto considerare l'acquisto da parte delle regioni e degli enti locali come un aumento dello stock di debito complessivo del sistema pubblico italiano con immediate ricadute in termini negativi dal punto di vista della quotazione del Paese e naturalmente dell'appetibilità dei nostri titoli pubblici Inoltre il Governo è intervenuto su due altri aspetti per noi fondamentali il primo togliendo la responsabilità penale solidale che bloccava le banche nel riacquistare questi crediti laddove ci fosse stato qualche problema cioè attraverso un meccanismo immediato e automatico di responsabilità penale che invece il Governo ha tolto l'altro con la possibilità di spalmare questi crediti in 5-10 anni perché non esiste lo spazio fisico e finanziario per restituire immediatamente al circuito finanziario stesso questi 77 miliardi di questa situazione molto grave qualcuno dovrà prima o poi assumersi le responsabilità nell'immediato l'ha dovuto fare questo Governo ma già il Governo Draghi e anche lo stesso Governo Conte erano intervenuti cercando di limitare le truffe che ad oggi ammontano a circa 10 miliardi di accertato Sanità il calendario di Miss Italia Toscana per la solidarietà a Cure2Children Il calendario di quest'anno è dedicato a un progetto molto ambizioso perché lo scorso anno a giugno siamo stati in Camerun dove abbiamo fatto nascere una collaborazione con un centro pediatrico locale e ci siamo fatti carico di 100 bambini inizialmente 100 bambini oncologici immaginate voi che impegno è per noi ma siamo sicuri che questo progetto rappresenterà per noi per la Cure2Children e per i nostri sostenitori l'apice del nostro successo perché portare l'oncologia pediatrica in Camerun dove non è garantita neanche una corretta diagnosi potete immaginare voi che quanta gratificazione abbiamo noi genitori della fondazione ma anche lo staff medico per aver portato l'oncologia pediatrica in un paese così in difficoltà come l'Africa Siamo davvero felici di poter ospitare anche quest'anno la presentazione del calendario di Cure2Children è un modo per fare anche noi la nostra parte per sostenere iniziative di sensibilizzazione iniziative di volontariato, iniziative tese a sostenere chi soffre penso che ogni qualvolta un'associazione venga da noi e ci porti iniziative come queste noi dobbiamo aprire le porte dell'Assemblea legislativa perché ogni iniziativa di questo genere è un fiore che noi piantiamo in un campo che dovrebbe essere quello del volontariato, del sostegno a chi soffre e ogni iniziativa di questo genere merita il plauso A Cure2Children un plauso doppio per il lavoro importante che porta avanti ormai da tanti anni un lavoro davvero che rende più bello il mondo in cui viviamo Cure2Children è una tradizione importante anche per il Consiglio regionale questo legame che si rinnova, questa fondazione che porta la cura ai bimbi nei paesi emergenti, tumori, malattie del sangue quanto è importante la solidarietà, la presenza, la cura attiva Dobbiamo soltanto dire grazie, noi che facciamo parte delle istituzioni donne e uomini a queste fondazioni che operano in modo così incisivo, così generoso così determinante, lasciatemi dire perché veramente c'è molto da fare per il prossimo continuo a dirlo quasi tutti i giorni la cosa principale che dovremmo fare noi dalle istituzioni è avere proprio la cura verso l'altro cerchiamo di vivere in un mondo così e fondazioni come Cure2Children ci aiutano a farlo Sì, un'iniziativa che si rinnova nel tempo che viene confermata nel sostegno della volontà del Consiglio regionale della Toscana perché è un'iniziativa che supera i confini della Toscana che mette i bambini al centro che porta un messaggio di speranza in condizioni di vita di tanti bambini che magari non hanno le opportunità che i nostri hanno quindi è un messaggio che coniuga lungimiranza, solidarietà ma anche tanta filantropia e quindi io credo che in questa dimensione ci sia tutto il sostegno e tutti i valori della regione toscana quindi del nostro Pegaso, del Consiglio di una voglia di rinnovarsi e di portare nel mondo un messaggio straordinario fatto da persone che dedicano poi la cosa più importante che hanno nella loro vita che è il loro tempo in un'attività del genere quindi per noi un'iniziativa che si rinnova e personalmente anche una dimensione un po' di affetto che prosegue dall'esperienza anche quando io stesso ero presidente della Commissione Sanità e quindi mi ritrovo molto in questa iniziativa grazie a tutti